Il Siracusa vittima degli errori del Sindaco Italia con il ritardo della pubblicazione del bando. Il tifoso che è solto non si è accontentato delle versioni che gli sono state propinate e ha preteso di saperne di più sul ruolo del Comune e su quello dei presentatori delle due risposte al bando, chiamando al telefono la Lega Nazionale Direttante, ritenuta a torto responsabile del diniego opposto alla richiesta di proroga formulata dal Sindaco Francesco Italia. L'accettazione o il rifiuto di una richiesta di proroga dei termini di scadenza non sono di pertenenza del LND, bensì dell'apparato federale centrale. Noi come LND entriamo in ballo solo quando la federazione ci dà il via libera per l'accettazione in soprannumero di una società affiliata e non è stato purtroppo questo il caso del Siracusa. Il tifoso non si arrende e azzarda un'ultima domanda. Possibile a questo punto la riapertura dei termini per l'iscrizione? Ormai riteniamo che manchino anche i tempi tecnici, quindi spiace per la città e per i tifosi, ma ad essere realisti non ci faremmo troppe illusioni. Più cari di così? Ed è proprio sullo ruolo del Comune e su quello dei due presentatori delle manifestazioni di interesse che il tifoso trova da ridire, sull'atroce sospetto che a far tramontare le ultime speranze del Siracusa di salvare il salvabile abbiano effettivamente contribuito gli errori evitabilissimi, come quelli commessi magari in buona fede nelle ultime quattro settimane, inutilmente trascorse in vana attesa di una risposta per la pubblicazione del bando che nella Lega Nazionale di Lettante, nella Federazione, erano tenute a fornire. Per non parlare della manifestazione di interesse bocciata a Palermo, ma celebrata Siracusa come un capolavoro di diplomazia sportiva e di abilità comunale della pletora di professionisti del Armiamoce Partite, che si sono avvicendati al capezzale di una gloriosa società come quella azzurra che non si sa neppure se sia stata doverosamente riconsegnata al Sindaco Italia o se nella fretta di andare dove lo portava il cuore il precedente patron se ne sia dimenticato. Errori che hanno contribuito a scamare la fossa al povero Siracusa sul quale si poseranno le lacrime di chi veramente lo porta e lo porterà sempre nel cuore e purtroppo anche quelle di coccodrillo dei tanti che hanno fatto sempre finta di amarlo.